Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Talarico, il presidente della cooperativa Monti del Reventino. Siamo orgogliosi di collaborare con la scuola agraria per lo sviluppo di questa azienda agricola che per noi è un fiore all'occhiello del nostro territorio. Il nostro supporto è quello di coadjuvarli nelle vendite, nel sviluppare anche un piano culturale che sia più ampio rispetto agli anni passati, questo non fatto solo dalla cooperativa ma fatto insieme ai ragazzi, ai professori. Vogliamo che anche loro capiscano la multifunzionalità dell'azienda agraria e siano vicini nello sviluppo di questo progetto.